. Le ultime anticipazioni del Molo Rosso sono dir poco esplosive e ricche di nuovi colpi di scena. La quarta e ultima puntata della serie tv creata da Alex Pina andrà in onda mercoledì 24 aprile in Prime Time su Rai 2. Spuntano nuove interessanti verità che riguardano Oscar. . Pare che l'uomo sia stato ucciso per nascondere la sua ultima attività illegale a qualcos'altro. Di che cosa si tratta? Non vi resta che approfondire gli spoiler del settimo e dell'ottavo episodio. . 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